E benvenuti a tutti ragazzi sono Alessio Nerazzurro e benvenuti in un nuovo video Ragazzi, scusate veramente per l'attesa perché mi avevo fatto aspettare tanto con i video ma purtroppo non ho avuto tanto tempo Ragazzi, farò un video unico sia per il Fanta e sia per la partita Non mi va di farne due insieme perché tanto comunque non c'ho tanto da dire Parliamo ragazzi di Inter-Juventus Allora, cosa devo dire riguardo questa partita? Devo dire una cosa Sono rimasto molto deluso perché volevo la vittoria con la Juve, sapete che è giù bello vincere e tutto E riguardo al novantesimo ragazzi mi è dispiaciuto veramente tanto Adesso togliete la cazzata o non la cazzata, mi è dispiaciuto L'aveva segnato Dzeko, su respinta E poi Dybala su rigore, cazzata di Dumfries, prendiamo gol su rigore Ragazzi, incassato perché l'Inter è fessa a volte Perde punti stupidi E non va bene così Ci deve essere una squadra più cinica e più attenta Perché sennò ragazzi uno rischia di perdere punti Capito? Deluso tantissimo ragazzi veramente perché volevo la vittoria Comunque se non c'è tanto da dire Poi per il Fanta Calcio mi sembra che Non mi ricordo se era la nona o la decima giornata Comunque ho affrontato il primo in classifica Praticamente era il più forte Ma ragazzi non è successo niente Questa giornata di Fanta qui Adesso in questo momento che sto facendo il video È praticamente quasi finita la giornata dopo Perché c'è il turno infrasettimanale E io il video ho fatto un po' tardi Quindi ecco Ecco non è successo niente Non è successo niente Era zero E niente di che Niente bonus Niente di che Nulla totale Adesso sto giocando un'altra giornata E vi dico già Per adesso sta andando molto bene E domani Spero già di farvi il video dell'Inter Che è Che è giocato contro l'Empoli E dell'altra giornata di Fanta Devo farvelo già domani ragazzi per voi Vabbè ragazzi Quindi deluso per la partita di Inter-Juve Però vabbè ragazzi è andato così E il Fanta 0-0 Quindi due pareggi Pareggio al Fanta e pareggio dell'Inter Poi domani faccio il video di Empoli-Inter E dell'altra giornata di Fanta Vabbè ragazzi Ci vediamo con un prossimo video Ciao a tutti